E ancora ben ritrovati a tutti voi, grazie per essere ancora con me in questo inizio di serata che vede un graditissimo ritorno ad angoli. Donatello Di Maio, ciao Donatello! Ciao Dolores, finalmente torniamo! Ma dov'eri? Ma che ne so, ho girato il mondo, ho fatto qualsiasi cosa, ma torno, te l'avevo promesso. Perché ogni tanto tornano e quindi anche tu sei tornato, quindi come stai? Bene, dai, bene, bene. So che ci sono tante, tante, tante novità. Come sempre, aspettiamo un po' ad arrivare ma poi... Perché state lavorando tanto su tante cose interessanti, è vero? Sì, 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 assolutamente, siamo su più fronti ma sempre molto ben radicati sul territorio. Senti Donatello, la prima novità parte proprio da domani, ce la vediamo insieme e poi la raccontiamo agli amici a casa. Volentieri, volentieri. Vai regia! Insieme a te, per ogni casa della tua vita. Rimax Essenza Donatello, questo è proprio casa a casa, è vero? Ti brillano anche un po' gli occhi, ti sei emozionato. Assolutamente, sì, sì, sì. Dai, raccontami! L'abbiamo voluto, l'abbiamo voluto costruire, l'abbiamo visto grazie ovviamente a tutto quello che è, in dubbio tutte le immagini, le possibilità che potevamo avere, però chiaramente grazie ad espansione lo abbiamo realizzato veramente nella maniera più, spero che arrivi a casa l'emozione proprio della casa e quindi sicuramente permettimi il gioco di parole ma sicuramente quello che volevamo. Perché è una bella storia? Perché lì dentro c'è il racconto proprio della famiglia, del momento del rientro a casa, dei genitori, dei figli. C'è anche l'animale di casa e c'è il nostro lago. C'è tutto, c'è tutto, brava. E non solo, c'è proprio la storia, diciamo che se volessimo raccontarla, ma preferiamo che poi i nostri telespettatori vadano a guardarselo perché andrà tante volte in onda, quindi sicuramente da domani come ricordavi tu. E quindi vorremmo che si comprendesse che quella è proprio la vita da bambino fino ad oggi e quello che potrai vedere nel video è questo, quello che vorremmo raccontare. E tutto questo naturalmente accade e viene raccontato anche attraverso la casa del cuore, quindi anche un modo per far comprendere agli amici a casa come attraverso voi c'è davvero la possibilità di sviluppare la ricerca, ma soprattutto di trovare proprio la casa del cuore, la casa della nostra vita, vero? Lì c'è tutta la nostra passione per come la vogliono realizzare e quindi sicuramente noi abbiamo la passione per la casa, per l'immobiliare, non solo, ma diciamo che il cento per noi sono le persone e quindi in questo momento vogliamo sempre di più che le persone capiscano qual è la nostra linea di lavoro. Perché tu mi dai, Donatello, anche l'occasione di ricordare proprio la vostra filosofia, che è quella anche di una soddisfazione reciproca, l'abbiamo detto tante volte in tutti i nostri incontri. Win-win. Win-win, esatto. Da dove siamo partiti e win-win. Da dove siamo partiti, questo è il fil rouge che porta avanti tutte le iniziative e in questo spot ancora una volta si racconta bene quanto tutti devono essere contenti, voi per la vostra attività e chi sta cercando casa anche per avere finalmente trovato la casa della vita e questo è davvero un aspetto importante. Diciamo che la nostra clientela, tu sai, noi abbiamo voluto far vedere che spazia, quindi sicuramente siamo in grado di soddisfare le esigenze e le ricerche di qualsiasi immobile, a maggior ragione permettimi di raccontartelo, magari tu non lo sai ancora, a gennaio. C'è qualcosa che non so. Meraviglioso, a gennaio, poi lo faremo vedere nelle open house future del prossimo format che andremo ovviamente a guardare insieme e a realizzare insieme e fare insieme. Ah ci sono ancora io? Ci sarai, assolutamente. Tu pensavi, d'inverno ti abbia lasciato al calduccio, anche se poi non fa freddo, quindi ci sta, va bene. Sicuramente noi a gennaio avremo quella che è la tanto attesa per noi certificazione collection, quindi ci occuperemo anche degli immobili di prestigio. Abbiamo tantissime richieste dall'estero e quindi in questo momento stiamo alla ricerca di immobili anche di un livello maggiore per ovviamente quella che è la clientela estera e italiana, perché no, perché sicuramente ti stanno muovendo anche in questo e quindi anche il reclutamento che sai essere il mio pallino fisso, il chiodo fisso, sicuramente dovremmo fare due chiacchiere anche su quello. Ma anche qui abbiamo qualche cosa da vedere, vediamo se la regia ci lo manda. Insieme a te, per una carriera di successo. Remax Essenza E questa, come tu hai detto bene, è una grande anticipazione, è spoilerato qualche cosa che invece da gennaio vedremo e racconteremo più e più volte e che diventa come adesso... L'abbiamo buttata lì, no? L'abbiamo buttata lì perché tanto non ci facciamo mancare niente. Assolutamente. Perché è vero che uno dei cardini della vostra attività è proprio quella del reclutamento. Ogni volta non hai dimenticato mai di fare presente appunto che è importante che la vostra famiglia, perché poi alla fine questo siete, si allarghi sempre di più e possa diventare formata da professionisti che poi a loro volta trovano soddisfazione. Perché lavorare con voi vuol dire comunque vincere, trovare occasione, realizzarsi professionalmente, trovare la casa nel cuore. Insomma, oh, fate tutto. Guarda, per tutti, come abbiamo detto sempre, il win-win è sicuro. Ieri forse ho postato io la centosessantesima recensione, fortunatamente positiva. Positiva. Quindi vuol dire che stiamo lavorando sicuramente bene. I consulenti, i ragazzi, quelli che ovviamente si sono avviati alla carriera e chi ovviamente lo faceva già ed è entrato a far parte della nostra famiglia, quindi in quello che è la squadra e il team Essenza, sicuramente a oggi potrà anche ricercare un'altra tipologia di clientela, un'altra tipologia di immobili e con questo ovviamente facciamo rivedere quello che è la nostra Como, perché è nostro il territorio e noi lavoreremo sicuramente su queste zone e quindi vogliamo far vedere la bellezza. L'abbiamo fatto vedere anche in quest'ultimo video. Si è vista benissimo, assolutamente, con delle panoramiche meravigliose e continuano quindi ad essere ricercati i nostri territori, sia da coloro che sono appunto già residenti o comunque arrivano da zone vicine, limitrofe, ma anche dagli stranieri. E questo è un altro fiore all'occhiello vostro. Guarda, sì, assolutamente, stiamo ricevendo tantissimi contatti e sempre di più il movimento estero Italia e quindi Como, io non so, arrivando qui oggi, quanto abbiamo visto di persone sui battelli, gente in coda, quindi sicuramente stiamo vedendo che sta prendendo quello che è il giusto suo spazio, Como e quindi noi vogliamo dire che ci siamo. Ma anche perché io voglio sentire il tuo parere, apro e chiudo un po' una parentesi, ma so che tu tanto ci stai già pensando perché stanno per arrivare anche le Olimpiadi. Quindi da qui ad allora vuoi che Remax non si inventa qualche cosa perché quelli che arrivano poi si innamorino del lago e comprino casa e rimangano qui forever, che succederà? Lo faremo e se mi darai retta lo facciamo insieme, da Como, facciamo tutto quello e poi ci facciamo vedere però a sciare perché c'è un'altra tappa, no? Io non so sciare, cioè non so più sciare, sciavo da ragazzina, adesso non lo so, non garantisco. Tu dici che poi si riparte. Se vuoi, visto sul territorio, se dovesse nevicare e fare freddo, a Lanzo d'Intevia, a Sighignola, ti faccio fare un campo base, quindi sicuramente partiamo da lì. Bene, quindi in attesa di questo campo base invernale sul quale non garantisco assolutamente, ultimo momento di questa nostra chiacchierata perché domani parte lo spot, a gennaio parte un altro momento, poi arriva la primavera, la primavera che facciamo? E qualcosa ce lo inventeremo, come al solito. Che cosa riparte in primavera? Allora, sicuramente riparte quello che è il nostro format tradizionale, il bello di portare in giro quello che sono le vostre telecamere e noi con voi per andare a vedere quelle che sono delle meraviglie e quindi i borghi insieme ai nostri immobili. Quindi diciamo quello che è il format open house, che poi troveremo anche lo slogan giusto anche per questo, però diciamo che le esterne sicuramente saranno come le dovremmo chiamare io e te, no? Quindi andiamo all'esterne, andiamo fuori, andiamo a fare la nostra esterna, ma ci facciamo un sacco di selfie e poi li postiamo, perché è anche vero che questi open house hanno funzionato molto bene, perché comunque fanno arrivare subito l'idea dell'immobile, poi c'è il riscontro, no? Come è andata anche da questo punto di vista? L'ultimo che abbiamo fatto con il protagonista per un giorno è stato meraviglioso. Tra l'altro l'ultimo è stato quello di Lomazzo, di Rino, che era un mio cliente già dal 2006, che ci ha raccontato le cose. Che ha venduto, io ho seguito, ho visto, certo. Quindi diciamo che il 90% di quelli che sono gli immobili che vanno in open house si vendono, anche qualcosina di più del 90% quelli che vanno perché espansione tv porta bene, angoli porta bene, dolores porta benissimo e quindi ce la facciamo sempre. Più di tutti gli altri? Più di tutti quanti gli altri. Va bene. Quindi abbiamo un bellissimo programma, come abbiamo detto, gli spot entreranno davvero continuamente a casa vostra per ricordarvi tutte le cose che ci siamo detti, un progetto dopo l'altro e poi ritorneremo anche a uscire fuori con le nostre esterne. Finalmente, finalmente. Come no. Donatello, che dire? Quindi grazie, grazie per essere tornato qui con queste anticipazioni. Grazie a te, grazie a voi. Ci vedremo prestissimo e riprenderemo a fare delle belle cose insieme. Grazie a Donatello De Maglio. Ti aspetto fuori. Naturale. Poi andiamo a uscire insieme. Grazie. Grazie anche a voi, ma prima di salutarvi vi ricordo la nostra mail. Continuate sempre a scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it. Io torno domani, giorno di festa, ma sto comunque con voi a casa e tra poco c'è l'informazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.